Ciao, sono Virginia. Io sono Giulia. La mia storia di sapore inizia qui a Verona. Sono molto appassionata del vino, infatti sto frequentando la facoltà di enologia. Se dovessi consigliarvi un vino vi consiglierei un passito in questo momento, anche perché qui con me c'è la mia amica Giulia che è molto appassionata di dolci. Lei vi consiglierebbe? Io vi consiglierei un moscato perché i dolci sono proprio la mia passione, infatti ogni pomeriggio biscotti e muffin sono il mio forte. Niente, buon vino Italia a tutti e divertitevi, assaggiate più vini che potete e buona giornata a tutti. Ciao!